Come stiamo? Facciamo andare via la musica e ci troviamo per la solita oretta del venerdì a chiacchierare un po' assieme Buonasera, signor Kaizo YouTube Boom! Vedete? Mi vedete! Come al solito, l'inquadratura è sbagliata però devo stare così sennò è troppo in basso Come state? Questa settimana è un po' volata mi sembra quasi di aver concluso la precedente live pochi minuti fa invece è bastata un'altra settimana nuovamente niente alpaca, molto bravi grazie a tutti quanti quelli che sono qui per gli iscritti vedo che il live trainer ormai ho imparato cos'è ho imparato cosa sono gli abbonati quindi grazie a tutti gli abbonati le regole sono al solito le stesse siamo un'oretta assieme chiacchieriamo di tutto quello che volete se... non fate arrabbiare i moderatori se volete farmi delle domande quelle saranno il centro della live potete farlo schiacciando in basso su fai una domanda se siete da PC oppure in chat trovate il link in questo momento il bot lo sta facendo passare se siete da mobile tutto molto facile qualsiasi domanda cercherò di rispondere e niente siamo qua we are here se stai così per un'ora poi bisogna raddrizzarti no ma io sono sempre molto scomplice è vero, in effetti dovrei mettere dovrei migliorare la situazione perché tu devi sapere che questa inquadratura era momentanea nel riorganizzare lo studio io dovevo spostarmi da un'altra parte però in realtà siamo troppo stretti non possiamo stare l'uno attaccato all'altro per ovvie ragioni e quindi sono rimasto così aspetteremo l'anno prossimo probabilmente cambierò postazione siccome la mia vita funziona così funziona in anni le novità arrivano di mese in mese forse quindi dobbiamo comprare il lievito io inizierei a comprare il lievito profit tenete il lievito dopo quanto va male io otterrei il lievito e poi investire successivamente nel lievito quindi sì abbiamo un po' riorganizzato lo studio in realtà non tantissimo però abbiamo un nuovo tirocinante quindi siamo sempre di più qua dentro non lo so non posso occupare tutto lo spazio che voglio ecco c'è un po' quella c'è un po' quella questione lì c'è un po' quella questione peraltro io nel frattempo parlerò degli affari miei sinché non arriveranno delle domande che per me va benissimo perché ad uno degli affari miei sono in grado di parlare ho ricominciato a giocare ad Animal Crossing sono riuscito a giocare ben un'ora oggi durante la mia pausa quindi preparatevi che tra un po' ricomincerò a rompere chiudiamo la fase dell'ossessione sulle biciclette elettriche passiamo alla fase della riossessione su Animal Crossing quindi preparatevi perché sì quindi ne parliamo c'è una domanda di primi67 che mi chiede ciao Shai hai visto il video di Saverio Tommasi sui negazionisti del covid? se sì cosa ne pensi? ho visto il video di Saverio allora cosa ne penso? del video o dei negazionisti? perché la questione è il video io il video un po' l'ho invidiato perché essendo qui sull'isola spesso mi perdo delle cose che magari vorrei vedere tipo mi piacerebbe ogni tanto andare a Roma e vivere queste esperienze di piazza come fa ad esempio un Diego Bianchi come fa anche Saverio ogni tanto per capire un po' quale sia l'aria che tira perché vi dico vivere certe cose non è come guardarle in televisione a me era capitato di incontrare dei politici anche importanti e vederli in televisione non è come vederli dal vivo nel senso che capisci tutto capisci che tipo di persone sono capisci molte cose le capisci anche guardandole in tv però non quando non hai il contatto fisico con qualcuno non capisci mai l'aria nella stanza non capisci che aria tira non capisci le energie che ci sono tra le persone le tensioni che è poi lo stesso discorso che dicevo l'altro giorno sul 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 dibattito Trump-Biden no? non è la stessa cosa è come il podcast di persona è diverso tutte queste cose istintivamente la sappiamo quindi ho un po' invidiato il fatto che ogni tanto mi piacerebbe andare a vivere questi luoghi come le i negazionisti del covid che si che si radunano o semplicemente parlare con qualcuno che ha una visione delle cose così strana perché io penso che in un certo senso ti arricchisca quindi se vuoi un commento sul video a me è piaciuto però no non come inviato sul campo l'amba 94 no non è non è quello che non mi piacerebbe andare lì a fare la iena non è non è la mia roba però ecco viverle queste cose a livello esperienziale non mi dispiacerebbe sui negazionisti del covid io non so bene cosa dirti a questo punto nel senso che dobbiamo cancellare ogni tipo di film sui gli zombie perché cioè l'avevo già detta questa cosa l'idea la sola idea che ci sia una una malattia incurabile che fa diventare tutti i zombie e l'umanità che si unisce contro questo male è fantasia perché noi abbiamo scoperto che invece avremo i negazionisti avremo quelli che vogliono dialogare con gli zombie avremo quelli che criticano il governo perché non fa abbastanza quelli che la sanno più lunga dei virologi che vogliono fare un siero anti zombie cioè abbiamo scoperto che l'umanità è fatta di tutti questi elementi che sostanzialmente inaspettati che sinceramente io non so bene cosa dirti cioè io sono tra le persone che intanto si domanderò ma tutta sta gente esiste perché esiste internet che le permette di unirsi di ritrovarsi oppure oppure c'è qualcosa altro che ce l'ha sfuggito quindi perché sinceramente era impensabile boh vent'anni fa vi dico che gente così avesse un tale peso per lo meno mediatico per lo meno mediatico quindi è un problema anche dei media che danno attenzione a queste cose non è che voglio prendermela con Saverio cioè alla fine i giornalisti raccontano la realtà però ecco i giornalisti non fanno solo quello c'è sempre il discorso di quanto è la tua responsabilità nel dare voce alle persone per dire io non invito al podcast un pazzo per strada che che ne so che non si lava mai perché è una malattia mentale e fruga non lo so pensa di essere un procione non lo invito a chiedergli opinioni su che ne so le politiche americane del rilancio della del del Midwest perché non ha senso farlo quindi spesso mi chiedo quanto abbia senso coprire manifestazioni incomprensibili come quella dei 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 vari pappalardo e delle delle questioni e dei negazionisti del covid ecco magari è anche un problema mediatico non lo so non ho idea è come scriveva Burioni scrive dottor kleibnitz una volta il cretino urlava la cosa al bar e tutti gli davano dell'idiota e lui per paura la volta successiva non urlava più su internet trova altri che urlano e gli danno corda e la forza del numero si cioè può essere che sia un po' quello può essere il problema sai cos'è è che mi ci metto dentro anche io questa cosa internet dà a molti la l'idea di essere più di quello che sono no che è un po' tipico ne parlo spesso di questa cosa qui del fatto che bisognerebbe avere paura di delle persone che ti dicono bravo perché l'ego è la convinzione di essere importante che tutti quanti ricerchiamo tutti quanti abbiamo questa necessità di sentirci meglio degli altri meglio non degli altri però della media rassicurarci sul fatto che siamo bravi a fare qualcosa che valiamo questa 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 idea di essere incredibilmente superiori magari prima arrivava a meno persone no perché la notorietà era una roba difficile da raggiungere quindi le superstar erano quelle che erano e quindi poterono anche permettersi queste vite di molto molto particolari molto strambe noi li guardavamo e facevamo boh vabbè adesso questa quel tipo di notorietà sia un po' inclinata ed esiste questa deminotorietà questa paranotorietà che puoi raggiungere anche in altri modi no per cui arrivano a essere seguite anche molto seguite persone che magari non hanno niente da dire non sanno niente non hanno niente da raccontare però capita che per una serie di ragioni diventino molto popolari e internet stimola un po' questa cosa quindi dello spingerti a voler essere quella roba lì no a voler dai guarda i numeri che c'hai se hai molti numeri vali no questa equazione che facciamo quando hai molti numeri vali qualcosa che è un po' come quando hai molti soldi vali qualcosa quando hai molto status vali qualcosa e internet proprio ti quindi ti ti spinge a questo comportamento per cui tu insegui cuori insegui like e può essere che quindi questa dinamica identica si crei anche in gente che riceve dei cuori riceve dei like riceve dei feedback riceve un senso di community sono tutte cose che noi necessitiamo di cui noi necessitiamo per vivere cioè feedback positivo community sentirsi bravi sentirsi amati eccetera da altri come loro e quindi si creino queste micro comunità che però sono enormi di gente che pensa delle cose sostanzialmente fuori fuori di testa grazie mille l'hypetrain è stato un successo grazie mille a tutti gli iscritti grazie del supporto assolutamente infatti ritengo è molto bella la domanda che ci hai fatto primi che mi hai fatto ritengo adesso ci voglia una sorta educazione civica ma per internet se internet sta diventando talmente tanto parte della nostra vita da creare vere e proprie vite parallele perché non educare a internet perché non è solo questione di educazione penso che siano anche dinamiche che hanno a che fare con la natura umana no? sono dinamiche che hanno a che fare con la natura umana noi tutti abbiamo bisogno di queste cose qua noi tutti abbiamo bisogno di un senso di community di sentirci parte di qualcosa di più grande di noi di sentirci importanti di sentirci intelligenti abbiamo questa cosa di scusate il casino di voler essere rassicurati sul fatto che siamo intelligenti belli no? perché sono cose che alla società piacciono alle altre persone quindi noi abbiamo questo questa necessità profonda di avere feedback negli altri no? per come siamo fatti quindi tu puoi anche educare la gente però se poi il sistema internet che facilita questo tipo di 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 dinamica tu puoi educare la gente quanto vuoi ma la gente non può non può sfuggire ai propri istinti ecco io sono ho sempre molto dell'idea che le strutture vanno create attorno all'essere umano e non sia tanto l'essere umano che deve piegarsi al mondo quanto la società che debba piegarsi alla regola dell'essere umano è chiaro quello che sto dicendo è molto complicato ma nella mia testa è molto semplice però la sto facendo è difficile secondo me è un po' assurdo creare è come dire sei una persona golosa ti piace molto mangiare che ne so quando sei ansioso magari mangi io sono così quando sono nervoso mangio molto che cosa faccio? mi creo un ambiente per cui non ho delle cose buonissime da mangiare nella stanza perché se ce li ho per me è più difficile focalizzarmi sulle cose importanti perché appena mi nervosisco vado a mangiare quindi la società perfetta in tal senso la società sono io nella stanza è una società che magari limita il mio accesso ha quel tipo di comportamento lo argino un po' perché se lo facilita però mi dice anche è però comportati bene cioè il cioccolato è qua però comportati bene stiamo completamente bypassando il fatto che io non mangio perché voglio mangio perché ho un impulso che non riesco a controllare quindi sì io posso lavorare su me stessa eccetera però gli impulsi non li posso cancellare quindi ha molto più senso creare delle strutture che mi impediscano di uccidermi mangiando 4000 calorie al secondo di cioccolato ecco quello sto cercando di dire c'è una seconda domanda arrivo subito da te giallu lallu giallallu giallallu l'umanità è complessa nella sua semplicità a non ridere vero vero per non dire queste cose mentre mangio snack fuori pasto ok quindi sì boh abbiamo parlato ore di siamo partiti da saverio sono uno dei tuoi membri silenziosi del club oggi riesco ad ascoltarti live volevo solo ringraziarti per tutto quello che fai continua così grazie mille grazie a te super grazie sono contento che sei un membro del club peraltro l'altro giorno parlavamo di come il club è molto ecco per chi tra voi non fosse nel club il club è molte cose e spesso c'è un po' l'identificazione del club come la chat no perché in realtà la chat è il tier in quale tutti possono accedere proprio con l'abbonamento base 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 quindi è anche la cosa diciamo più partecipata e poi ovviamente si ottengono altre cose che sono i q&a che adesso faccio con la mia assistente poter interagire aiutarmi a scrivere le domande per i podcast purtroppo il podcast in questo momento è fermo poi ci sono i tier avanzati facciamo un casino mandiamo roba facciamo cose quindi fun fact questa moneta che ho sempre in mano tutte le volte questa l'abbiamo fatta no guardate che figa che è ve l'avevo fatta vedere in live io sono molto orgoglioso di questo oggetto che non si vede minimamente questa cosa è fighissima sono contentissimo c'è molta confusione quindi io non so se tu dicendo che sei silenzioso sei silenzioso in genere nel club o sei silenzioso nella chat mi rendo conto che la chat sia un ambiente complicato e l'altro giorno qualcuno parlava della difficoltà a inserirsi un po' perché effettivamente è un po' un unicum su internet secondo me è proprio una cosa un po' a sé e io sono orgoglioso di come funziona sinceramente perché è un ambiente molto positivo essere un ambiente positivo cioè creare un ambiente positivo su internet è complicato la mia community è già meglio di altre in generale quella è ancora ovviamente ancora più protetta quindi è molto però è un casino ovviamente perché è pieno di gente che parla di tutto quindi non so se sei silenzioso se sei silenzioso lì è completamente comprensibile però in generale grazie mille del supporto lo apprezzo tanto lo apprezzo veramente veramente tanto l'hai fatta tu con le tue mani no ovviamente no questa l'abbiamo fatta fare industrialmente ne abbiamo fatto fare un centinaio sono fatte in metallo sono pesantissime e sono molto fighe secondo me mi piacciono veramente c'è qualche modo in cui noi non dal club possiamo tenere la moneta no non c'è nessun modo perché noi abbiamo un sacco di gadget di cose che abbiamo fatto roba roba brandizzate che io invece di vendere regalo come parte dell'appartenenza da un certo livello del club in su non lo so perché mi piace di più fare così anche se è meno redditizio però secondo me è più bello non lo so sono cose uniche quindi una volta che noi le produciamo e le diamo poi non le diamo a nessun altro quindi anche lei con le tazze così ne facciamo ogni stagione le tazze del podcast e quindi le tazze del podcast le ho io ovviamente i miei collaboratori vicestretti gli ospiti quindi ogni ospite dipendente dall'anno in cui è venuto alla tazza e poi chi è iscritto al club e basta e poi quelle tazze non le facciamo più non le produciamo mai più mi piace un po' l'idea dell'oggetto unico ecco mi stai tentando ad entrare esatto in realtà si è tutta una grande marchetta no? è come il ragazzino del colo abbiamo parlato l'altro giorno il bambino che fa i giocattoli poi fa i video sui suoi giocattoli che ha creato lui e vende è tutto è tutto un casino altre domande vediamo un po' no però non ce ne sono quindi continuerò a parlare di Animal Crossing Animal Crossing è un bel gioco e sono nuovamente ossessionato oppure posso raccontarvi delle mie di cose è successo con la bicicletta nessuno me l'ha chiesto è stato sono stati momenti tragici sono stati vediamo a parlare della Red Bull sulla schivania volentieri quella è una Red Bull 0 ho scoperto che esistono le Red Bull 0 oltre a quelle sugar free che hanno un sapore un po' più dolce di quelle sugar free e quindi sto comprando quelle lì cosa è successo con la bicicletta in attesa di domande parliamo della bicicletta lo decido io vi ricordate che ero ossessionato dalla bici elettrica avevo fissato che mi sarei comodato la bici elettrica ho cambiato idea perché ho fatto con una bici elettrica da casa mia allo studio e mentre guidavo la bici quindi non tre minuti che la provi ma c'è un bel pezzo di strada ho pensato andare in bici è figo perché è bello perché andare su due ruote è bello in generale però mentre la guidavo dicevo cioè ho faticato un po' a giustificare l'acquisto di una bici elettrica lo sapete costa molti soldi di fronte al fatto che io ho già una moto che peraltro io sto pagando cioè non è che la moto la sto pagando come tutti perché non l'avevo acquistata cash l'avevo acquistata quindi cioè l'avevo acquistata e non me la potevo permettere sostanzialmente quindi la sto ancora pagando e dicevo boh vabbè io ho sta moto le voglio un sacco bene che ci faccio su sta bici perché non è una bicicletta ma non è una moto cioè faccio non lo so faticavo a giustificare l'acquisto nel senso mi rendo conto che per chi ha solo la macchina o non ha non ha altri mezzi la bici elettrica è un ottimo è un ottimo mezzo di per circolare per circolare no è un po' inferiore il monopattino per alcune cose perché il monopattino è un po' più pratico se devi fare meno strada è un po' più pratica per altre cose ed è più divertente il monopattino se devi fare strada un po' più lunga e vuoi muovere un po' le gambe non finisce qui perché ho detto vabbè io cioè volevo la bici per muovere le gambe cioè per fare un po' di attività fisica quindi invece della bici elettrica a quel punto mi compro una bici normale e continuo ad andare a lavoro in moto e guido la bici tipo nel weekend mi faccio i giretti non lo so oppure faccio vai e torna quindi cosa ho fatto sono andato su marketplace ho trovato qualcuno su facebook che vendeva una bici usata pochissimo una bici niente l'ho pagata così proprio pochissimo ho comprato la bici per fare da qui a casa mia con quella bici ci ho messo 45 minuti con la mia compagna che mi chiamava preoccupata dicendomi dove sei ti è successo qualcosa perché non sei ancora a casa sei partito molto tempo fa e io dicevo giuro sono sono a metà strada e quindi abbiamo fatto tutta la strada peraltro io avevo le cuffie quindi gli dicevo indovina dove sono e non indovinava mai perché ero sempre molto più indietro perché ovviamente grazie alla bici elettrica ho largamente sopravvalutato la mia capacità fisica e quindi ero lentissimo ero lentissimo stanchissimo e quindi mi superavano il runner sostanzialmente in salita se la gente era a piedi mi superava e quindi e quindi ho faticato come un mostro quindi adesso ho una bici che è in balcone ho intenzione di usarla nel weekend ci monto un seggiolino che ancora non ho comprato ci metto mio figlio faccio i giri attorno a casa sostanzialmente è così sick transit gloria mundi shy che voleva la bici elettrica no non ce l'ho fatta la graziella non è stata una buona scelta mi hai visto? perché io sono stato nel frattempo riconosciuto da un po' di gente peraltro l'imbarazzo anche di essere riconosciuto mentre fatichi con un mostro in bici e tutti che ti indicano sono passato davanti un mio amico evidentemente che mi ha mandato un audio e mi ha detto dottor dove cazzo va con sta bici? cioè c'è stato c'è stato del cringe comunque la gente che mi riconosceva io ho comunque affaticato provato da questo sforzo fisico di muovere due pedali e comunque sì ho preso una graziella da donna molto secondo me molto stilosetta quindi i bambini che ridono esatto i bambini che ridono esattamente quella è esattamente com'è andata è andata così è stato è stato è stato molto bello beh ci sta che all'inizio risulti più faticoso ma è un dato di fatto che in città con la bici percorri dei tratti ad una velocità media maggiore in tempi minori rispetto all'auto a pari condizioni è un po' quella la questione perché io mi muovo già in moto cioè con la moto io sono molto agile quindi di fatto quella roba lì non ce l'ho io sono più veloce di una bicicletta con la moto ovviamente e sono più veloce delle auto perché evito il traffico perché ovviamente io ci passo anche se è tutto bloccato con la moto passi sempre non in uno scooter per dire che è super mega agile però con la moto vai un po' dove vuoi lo stesso quindi io quel problema già non ce l'avevo era soltanto per muovermi quindi come un anziano come un buon padre di famiglia ma anziano sto usando la ciclette quindi la sera salgo sulla ciclette faccio pedalo inutilmente guardando il muro ma non è vero giocando ad animal crossing o o quando sono sulla chat quando sono sulla chat del club that's my life now invecchiate ragazzi è una figata fatelo invecchiate e quindi perché non hai rivolutato la bici elettrica per il costo perché non ha senso perché non ha senso perché alla fine ho la moto cioè ho la cioè non sì cioè se me la regalassero la bici elettrica forse la userei per dire però e se non avessi la moto l'avrei sicuramente comprata se non avessi avuto la moto 100% in questo momento avrei una bici elettrica perché è figo comunque mi piace su due ruote è una cosa che mi piace però non cioè è una spesa difficilmente giustificabile cioè dovrei mettere mi compro la bici elettrica non uso più la moto uso la moto non uso la bici elettrica se non la uso perché me la compro cioè è una cosa un po' così capito sono contento ok no niente comunque chiudendo la domanda che non è una domanda grazie grazie mille volevo solo ringraziare per tutto quello che fai continua così grazie mille grazie giallallu grazie giallallallu non lo so grazie grazie mille per il buon complimento che non mi hai fatto mentre ero a bordo di una bicicletta cioè l'apprezzo se ci fosse qualcuno dei ragazzi che mi ha visto e che si è messo a gridare fagli una foto fagli una foto thank you so much però a parte che ero con la cioè non potevo far preoccupare mia moglie che stava chiamando i carabinieri e poi davvero non potevo fermarmi però bello bello che moto hai shy ho una oddio sembra un po' sembra un po' il reverendo canden oggi con i capelli così però non so come metterli perché sono troppo lunghi posso mettermi gli occhiali da sole per tenerli su farò questa cosa sì moglie non è esattamente mia moglie la chiamo moglie perché tra adulti si fa così no noi non ci siamo sposati però la gente ovviamente vedendo l'età che abbiamo dice moglie sua moglie signor Masa la sua moglie e quindi moglie mi è diventato moglie perché non la chiamo moglie con voi però in generale la chiamo moglie cioè di fronte a degli sconosciuti la chiamo moglie perché innanzitutto non mi interessa dire alla gente qual è il nostro status legale e poi perché normalmente le persone a una certa età danno per scontato che tu sia sposato e quindi ti dicono ah ho visto sua moglie ah lei è sua moglie quindi sì lei è mia moglie nuova domanda dai che cambiamo argomento lei mi chiama signor Breaking esatto la mia signora sì ciao Shai unknown reader sei sempre sul pezzo è molto in gamba nel tuo lavoro grazie mille però ho paurissima che questo qui sia un sandwich di complimenti e quindi stia per arrivare alla parte brutta detto ciò hai letto di Ling Mei Yang Li Meng Yang si vede già che non ho letto di nessuno perché non so leggere il nome ricercatrice all'università di Hong Kong che sostiene di avere le prove che SARS-CoV-2 sia un'arma chimica sviluppata sotto il presidio del governo cinese sì l'ho letta questa cosa non mi ricordavo del nome della tizia sì l'ho letto io consiglierei di stare di ascoltare quello che dice la comunità scientifica perché l'idea che ci sia la persona che dice la cosa e ha ragione lei e va contro tutti eccetera è molto cinematografica molto cinematografica no? lo scienziato che dice ragazzi questa cosa è gravissima e tutti che dicono non si preoccupi signor Smith e poi c'è l'apocalisse è molto cinematografica però è molto molto irrealistica la cosa più realistica è che una comunità di persone titolate abbiano abbiano ragione loro e che all'interno di questa community ci siano delle voci di minoranza che dicono altre cose per tutta una serie di ragioni no? ogni volta noi quando succede un crimine succede una cosa un litigio con qualcuno eccetera la prima cosa che facciamo è dire perché l'ha fatto perché una cosa che gli esseri umani capiscono molto bene sono gli incentivi gli alibi le ragioni più o meno recondite dietro al comportamento umano quindi quando tu vuoi capire le le ragioni delle azioni di qualcuno in genere lo puoi fare indagando quale sia il suo motore in generale nei confronti non solo di quell'azione ma della vita in genere quindi ci sono mille ragioni per cui una persona potrebbe dire questa cosa qua ovviamente se a un certo punto ci fosse un grosso una una questa cosa fosse provata ci fossero molte voci che sostengono questa idea all'interno della comunità scientifica potrebbe avere più senso ascoltarle no? sinché non lo sono cioè sinché rimane una voce di qualcuno che dice una cosa è forse più prudente immaginare che siano altre le motivazioni che spingono a dire certe cose attualmente noi sappiamo la il risponso della comunità scientifica è che il il virus non sia un'arma chimica sviluppata da qualcuno non sia nemmeno stato modificato come hanno più volte detto e spiegato vari virologi quindi non mi fascerei la testa dicendo oddio ecco qua è saltata fuori la cosa che la vogliono tenere nascosta anche perché uno dei problemi di queste cose qui è che è impossibile cioè i complotti non funzionano perché la gente parla quando tu vuoi complottare allora un complotto è molto efficace quando le persone che complottano sono poche no quando se vuoi accoltellare Cesare lo devi dire soltanto alle persone che accoltelleranno Cesare se sono troppe le persone e soprattutto se quelle persone hanno degli obiettivi diversi tra loro non si conoscono magari e fanno parte di una community molto più grande visto che adesso il mondo permette questa cosa qui no prima no adesso sì è molto difficile che la gente segue complotti non lo fa perché perché no perché non hai delle reali motivazioni per convincerla a seguire il complotto quindi se ipotizziamo per assurdo che questa cosa fosse un'arma eccetera e la gente e la Cina avesse detto ok dobbiamo tenere nascosta questa cosa dovrebbe convincere non so decine di migliaia di scienziati in tutto il pianeta che non si conoscono tra loro e hanno interessi completamente diversi tra loro anche contrastanti perché sono tutte persone in competizione tra loro a seguire a star zitti ed è proprio impossibile è impossibile quindi io non le darei tanto peso ecco non le darei tanto peso ma se mi scrivo al club mi mandi il mirto certo volentieri vediamo cosa state scrivendo ehm oh no Ale cos'è che hai fatto col cerchetto ah sì ho fatto il cerchetto con gli occhiali scusate mi danno troppo fastidio mi vanno negli occhi eh quindi se una cosa è screditata da una community così grande io un po' ci fari peso cioè lo so che per noi è molto complicato perché aspettate che chiudo questa porta per noi è molto complicato perché spesso non avendo le basi per io ad esempio io non so leggere un paper scientifico che parla di di covid non sono in grado posso anche provare a farlo ma non lo capisco eh quindi necessito sempre di un interprete per 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 digerire certi certi argomenti eh tutti quanti noi no ovviamente quindi che fai cioè ti affidi a non ciecamente non è una questione di fiducia cieca ma è una questione di fiducia relativa cioè capisci quali possono essere le motivazioni in gioco eh e ti comporti di conseguenza ecco eh eh sai perché le caramelle con la mystery box eh ma non so mi piace mandarvi caramelle mi piace una cosa che è una cosa carina mandare caramelle è un bel gesto regalare caramelle pensate quanto sono vecchio come il vecchio nonno che regala i dolci ho 36 anni non so perché mi sto comportando così non lo so che problema ho però mi piace regalare le caramelle eh falco falco 2000 eccoti qui oggi litigavo con i miei genitori perché ehm sebbene ascoltassero un sacco di artisti negli anni 70-90 non mi hanno mai fatto sentire nulla e sto iniziando adesso a conoscerli ok poi mi vanno a dire che ascolto musica vabbè del cazzo lo posso dire l'ho detto mille volte quindi posso leggere anche il tuo chi sono i tuoi gruppi preferiti allora ehm ti dico io ho avuto un'infanzia strana sotto questo aspetto tipo io non conosco niente a livello eh culturale diciamo nel senso di popolare del termine perché eh i miei genitori non guardava ad esempio io sono cresciuto senza guardare Mediaset io non ho mai guardato Mediaset se non quando sono diventato grande perché a casa mia non si guardava quindi io ho un sacco di attori attrici subret presentatori eh giornaliste giornalisti che magari però erano in quelle reti non li conosco molte tv non le ho viste molte cose me le sono perse e questo si applica anche alla musica perché i miei ascoltavano musica loro io ho vaghi ricordi era tutta roba molto politicamente impegnata molto politicamente impegnata e poi ho qua il che ricordo quando ero bambino delle cose che tipo ascoltava mio padre proprio sì della musica degli anni 70 tipo robe così no sì 70-80 e ti dico quelle poche canzoni che io mi ricordo cioè che adesso conosco no non so non le so neanche ben collocare agli artisti perché non non li ho mai visti cioè non li ho mai seguiti e poi mi mettono un po' l'ansia cioè certa musica mi fa venire un po' l'ansia non so se è perché l'asso c'ho quando ero bambino e poi non l'ho più sentita e poi riemerge non lo so non mi piace quindi non io musicalmente nasco negli anni 90 io prima degli anni 90 non ricordo niente 90 tardi 90 no Guccini boh non conosco non è che una canzone di Guccini per dire non lo so Fischia il vento certamente ecco robe più così robe più così sì robe molto politicamente impegnate però io molte cose non non le ho proprio non le ho proprio Andrea Fabretto mi scrive e allora Gia Gia Ding Dong esatto Gia Gia Ding Dong io nasco con Gia Gia Ding Dong that's that's my jam that's my jam chi non non voglia essere la citazione si vada a cercare Gia Gia Ding Dong si ascolti Gia Gia Ding Dong si innamori di Gia Gia Ding Dong e poi vada a vedersi il film un po' di parte e beh certo che erano un po' di parte secondo voi cosa i miei genitori cercano di essere super parte se mi dicevano no però ognuno di parte ma mi sembra anche normale cioè ci manca soltanto che dite no adesso ascoltiamo un po' di questo e un po' di questo perché tu un giorno dovrai fare Breaking Italy e quindi dovrai essere equilibrato no ovviamente ascoltavano quello che piaceva loro e io ho quello assorbito poi io sono 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 passato la mia fase metal come tutti i ragazzi disagiati dei miei tempi però a me piaceva un po' di tutto ecco grazie a te che ho scoperto Post Malone vabbè minchia cioè Post Malone chi l'ha scritto? Marco Marino eh Post Malone è gigante gigantesco Shiteify su Spotify è gigatrash quindi qualcuno ancora ascolta Shiteify fantastico bellissimo peraltro Shiteify io avevo cercato di traslarla su YouTube Music perché adesso io uso YouTube Music quindi ci sono cose più nuove però avevo faticato e non l'avevo messa tutta quindi sicuramente molte canzoni su Shiteify non le ho ascoltato da molto e mi mancano è bellissimo andate su Spotify cercate Shiteify tre bien non lo so comunque io non sono neanche molto musicale io sono molto poco sono una persona molto noiosa alla fine mi piacciono i videogiochi la politica le news le lego le moto i tatuaggi sto già finendo le cose che mi piacciono mi piace poca roba avevi i capelloni sì avevo i capelloni avevo però i capelli crescono un po' lunghi lo vedrete perché a questo punto non so se li sto facendo un po' crescere forse non è il caso diventano un po' boccolosi perché io c'ho io c'ho un po' i ricci siamo tutti uguali siamo tutti uguali gli youtuber italiani sono tutti uguali si assomigliano tutti è una cosa terribile ah già è vero che le lego non vi piacciono i lego i lego a parte i tatuaggi coincidi con me ma io ci aggiungo la scienza e la fantascienza vedi che tipo a me piace la fantascienza un po' tipo il cyber per le cose un po' distopiche un po' tristi però la scienza ad esempio è una cosa che a me non interessa devo dire la verità non mi interessa tantissimo non mi fa impazzire non mi lo spazio cioè lo sapete non è non è parte dei miei interessi ah le bici elettriche giusto giusto Vesakhin mi dimenticavo le bici elettriche ci sono due domande quindi ci torno subito avete cercato già dopo alla fine cercate già ding dong stay calor stay calor sì ciao shy la settimana scorsa o due settimane fa si parlava molto della questione tridico e del suo aumento di stipendio vorrei sapere perché quindi vorrei sapere perché quindi come filtri le notizie prendendo come esempio quest'ultima sperando che ne sia conoscenza forse l'hai riscritta perché la vedo due volte vorrei sapere come filtri le notizie prendendo come esempio quest'ultima allora fondamentalmente mi stai chiedendo perché non ne ho parlato non ne ho parlato perché secondo me era una non notizia cioè in Italia accadono spesso si scatenano spesso grandi dibattiti attorno a non notizie che sono montate dalla politica che accende questi fuochi sui quali soffiano i giornali cioè invece di succedere il contrario cioè i giornali scoprono qualcosa e la politica ci si attacca sopra magari il giornale scopre qualcosa mi sembra che fosse partita da Repubblica la questione la politica monta un casino e allora i giornali tipo non i giornali ma sì anche i giornali ma addirittura le trasmissioni tv ci tornano sopra e costruiscono io ho visto addirittura un'intera puntata della quella cagata che fa cosa come si chiama non è l'arena con tutto il rispetto però non è esattamente la mia la mia trasmissione preferita ed è stata una cagata di puntata diciamo le cose come stanno perché era tutta incentrata su questo scandalo che non era uno scandalo non lo era da subito si è detto Tridico si è aumentato lo stipendio ah no non è vero che si è aumentato lo stipendio è soltanto che era stato abbassato prima era molto basso rispetto al livello al quale Tridico opera perché un top manager anche se della pubblica amministrazione non ha senso che prenda meno dei suoi sottoposti è una cosa stupida e quindi gli sarebbe dovuto alzare lo stipendio e si è montato un casino totale attorno a questa cosa che vergogna la vergogna ed è sempre il solito teatrino di allora quelli che lo devono difendere quindi a sto giro i 5 stelle che in passato avrebbero fatto un casino su questa cosa che adesso invece sono dall'altra parte dalla la controparte e quindi devono dire ah no non è così e invece la destra che dice buh dimissioni subito e questa non è politica cioè la politica è ideologia è decisione è compromesso è affrontare i problemi è sintesi ma non è cioè cos'è che sta roba brutti no belli dimissioni no cioè che schifezza è e ci fanno le trasmissioni no ah che vergogna vogliamo capire se l'ha capito subito da subito che non è che era una non questione e infatti si è spenta proprio perché era una non questione ehm punto quindi io quando scusate scusate quando eh l'ho vista accendersi questa questione ho detto immediatamente ok this is shit non non è una cosa cioè bisogna che scusate bisogna tenere conto che ogni volta che io do uno spazio a una cosa sto togliendo spazio a un'altra cosa e in queste settimane ci sono state tante notizie interessanti secondo me eh compresa quella sugli influencer bambini per dire che secondo me può avere un senso genera un dibattito che se l'avete visto nel canale è comunque interessante rispetto a una roba ragazzi voi siete indignati non lo so che roba è è proprio un livello anche offensivo di affrontare il dibattito pubblico no ragazzi siamo indignati o no boh non lo so la trovo una cosa un po' quindi non c'era veramente nessuna notizia che io potessi togliere per parlare un po' di tridico ecco questo è un po' è un po' la la filosofia che mi spinge nella scelta delle notizie ci sono alcune cose che mi interessano di più alcune di meno per dire alcune cose sono importanti a prescindere tipo abbiamo parlato ogni tanto di delle tensioni al Vaticano tipo il mondo del Vaticano a me non affascina non è che ne parli volentieri però se è una cosa importante va detta e quindi la dico ecco tridico non è la cosa importante sì bello mi spieghi la passione la passione la passione per Sean Paul e per l'Eurodance sì sono io quello che ascolta a shitify perché sei un grande dai sei un grande devi un giorno ci alleneremo assieme diventerò grosso come te e dovete sapere che si bella è grosso perso come si dice da queste parti e ascolteremo shitify quindi cioè capito tu mi mi farai dai allenati forza coraggio e nel frattempo ci sarà sotto baby baby why can't we just be together che credo immagino che sia in shitify in realtà non lo so la passione per Sean Paul vi dirò questo Sean Paul è stato uno dei miei idoli giovanili tipo io guardavo Sean Paul da adolescente dicevo io voglio essere come questo tizio mi sembra mi sembra figo mi sembra ha un vibe affascinante voglio essere come lui e quindi sono legato a Sean Paul per quella roba lì a parte che è bravo a parte che è bravo ce l'avevo per lui e per Craig David che era un altro cantante dei tempi che però non è diventato un mito come Sean Paul è rimasto un po' più un po' meno io li guardavo e dicevo I wanna be like them quindi la mia ossessione è per quello l'eurodance l'eurodance perché è stato il momento musicale più importante in Europa di tutti i tempi tutti i tempi non parlo solo dell'ultimo secolo tutti i secoli tutti l'eurodance c'è anche la parola euro quindi è proprio eurocentrica no? l'Europa unita c'è tutto c'è tutto un progetto c'è tutto un progetto Sean Paul non si infama primo cd comprato in vita mia insieme a quello degli Evanescence e vi dirò anche esatto ce l'ho fatta sono esattamente diventato come Sean Paul same person e infatti stessa cosa vi dirò anche uno dei miei primi crush musicali nessuno se la ricorda a parte i vecchi come me e si chiamava Natalie Imbruglia cercatevela pure la canzone più famosa è Thorn è stato il mio primo crush musicale that's me una volta voglio vedere una volta dei teppisti in treno si avvicinarono a me e al mio amico chiedendoci immagino chi sei estrella se ci piace se Sean Paul e manco il tempo di rispondere che ci pestano così a caso così vi piace Sean Paul e poi colpi ok mi spiace ovviamente mi spiace però bene quindi tutto tutto spiegato oizuram oiziruam 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 ok ciao Shai seguo Villa e Bressanini Matteo Villa che a lungo hanno criticato la spinta ad usare mascherine data all'iniziale scarsità di prove di efficacia sottolineando credo troppo possibili rischi ad essere associati hanno esagerato a cercare l'antipopulismo allora bisogna fare un discorso qua il discorso è questo dipende da chi sei dipende da chi parli dipende da come lo dici il punto è questo ne dobbiamo sempre chiederci allora aspetta come te la metto quando io parlo di cose su Breaking Italy talvolta mi rendo conto che ci inabissiamo in dei discorsi che hanno dei distinguo importanti no nel senso che io raramente porto avanti dei pensieri che non siano un minimo strutturati complicati non che io sia un genio non è che sto dicendo quello però tendo a sfuggire un po' la banalità dello slogan quindi quando diciamo prendiamo l'argomento più controverso possibile che ne so oddio no aspetta no non facciamola questa cosa dieci minuti dalla fine però che ne so oddio avrò problemi con qualsiasi argomento quindi femminismo ok e tutti quanti siamo ipotizzo a parte quelli che non lo sono ma ipotizziamo che siamo tutti della gente normale siamo a favore della parità di genere giusto tutti quanti vogliamo abbattere i problemi legati alla disparità di genere nella società eccetera eccetera perfetto e su quello non ci piove per sensibilizzare le persone che magari sono ancora molto indietro su questo noi quindi siamo fermi proprio agli stereotipi della donna che non ce la fa non lo so che è inferiore siamo proprio al medioevo no ci sono alcune zone del paese che sono ferme lì ma probabilmente maggioritarie non lo so continuiamo a mandare avanti i messaggi molto netti e un po' banali oppure creiamo dei distinguo perché i problemi sono due se noi mandiamo avanti dei messaggi banali netti e comprensibili probabilmente facciamo meglio alla causa quando ci rivolgiamo a delle persone che sono digiune dell'argomento quindi se io vado in un paesino dimenticato dal signore dove tutti hanno l'idea che la donna sia no una comprimaria sia una una non possa essere protagonista della storia ma debba essere debba fare il passo indietro no che sia naturale che sia così probabilmente è più efficace se io tiro fuori dei messaggi un po' standard tipo che ne so standard se io invece voglio affrontare un discorso più approfonditamente posso mettermi a fare vari distinguo e quindi approfondire le questioni e dire sì però magari qui stiamo esagerando sì però magari questa cosa non è così sì però attenzione alle questioni maschili sì però stiamo affrontando una battaglia giusta nel modo sbagliato sì però sì però sì però sì però ok da un certo punto di vista è importante anche fare quelle cose lì no? perché poi le battaglie si possono combattere bene male in modo efficace in modo inefficace ma se io vado a fare dei distinguo su una popolazione che di un certo argomento magari è completamente digiuna il rischio che si percepisce sempre è che io stia dando in realtà o ragione alla controparte che quindi vuole la donna in cucina che ne so o comunque stia dando degli appigli a queste persone che poi hanno come obiettivo quello di quello di smantellare la protesta no? altro esempio black lives matter è giusto abbattere le statue tutto quel casino eccetera noi ne abbiamo un po' parlato ognuno aveva un po' le sue idee e io ovviamente notavo che dipendentemente da chi erano le persone alle quali arrivava il mio messaggio che era è corretto abbattere le statue dipende quella era più o meno la mia idea dipendentemente da chi fossero le persone e quanto fossero addentro alla questione o quanto ci fosse trasporto mille cose ottenevi risposte diverse c'era chi ti diceva sono d'accordo con te dipende c'è chi diceva assolutamente sì assolutamente no e alcuni che magari ti accusavano dicendo facendo così aprite la porta a quelli che odiano le minoranze no? perfetto fatta la premessa è più efficace a una grande popolazione variegata come quella che può essere l'intera popolazione italiana dire mettetevi ste benedette mascherine o metterti lì a fare i distinguo e dire sì però può anche essere che siccome non sono molte poi ci sono altre questioni qualcos'è più efficace secondo me è più efficace andare un po' con l'accetta come è più efficace dire viva le donne hanno una marcia in più che è il livello banalissimo che si usa in televisione per ricordare che la questione delle donne è centrale no? poi è vero che le donne hanno una marcia in più no le donne sono individui come gli uomini sono uguali è la stessa cosa però il messaggio che tu devi passare è più forte quindi dai un colpo forte così e quindi mascherine dai mettetevi sta mascherina e non rompete dall'altra però è corretto che un divulgatore come Bressanini può essere Bressanini non si metta a fare dei distinguo dal suo punto di vista perché la sua responsabilità o comunque il suo interesse è affrontare una questione in modo un pochino più strutturato cioè la domanda è un po' lì è la questione delle responsabilità il governo magari ti dice mettiti la mascherina magari un divulgatore ti dice secondo me ci sono dei distinguo oppure stessa cosa che io vedo spesso accadere il governo fa dei decreti l'interesse del governo è renderli comprensibili per quanto possibile e efficaci per quanto possibile l'interesse di alcuni giornalisti magari molto bravi o giuristi eccetera è di smontarli e dire questa cosa non si poteva fare non si poteva fare meglio questa cosa è scritta male questa cosa non è chiara che cosa è meglio fare è meglio dire alla gente vedete che il governo comunque un po' cioè ha fatto questa cosa o è meglio dire alla gente è tutto un casino non si capisce niente i decreti sono scritti malissimo dipende dipende da qual è l'obiettivo dipende da qual è la persona che fa la cosa il governo cercherà di fare una cosa i giornali cercheranno di fare un'altra cosa alcuni giornalisti direi giornali è un po' eccessivo ecco la mia risposta è un po' questa qua quindi esatto Bresanini non dice non mettete la mascherina ha spiegato come funziona il contagio è un po' quella la questione quindi dipende un po' da qual è il messaggio che vuoi mandare quindi capita che io faccio entrambe le cose ad esempio ho molto approfondito la questione immuni vi ricordate sono stato molto critico inizialmente perché ci vedevo dei problemi seri che poi sono stati superati molto bene eccetera quindi il governo in questo ha fatto bene secondo me ha fatto tante cose bene questo governo secondo me nella gestione dell'epidemia molti casini però alcune cose le ha fatte bene immuni non ho niente da dire più e poi dopo aver fatto quello ho iniziato a mandare dei messaggi un pochino più più diretti tipo però scarichiamo immuni dai se scarichiamo immuni cioè dipende anche un po' dal ruolo che ti sei che ti sei costruito ovviamente un divulgatore non ha il ruolo di fare la la predica quella la deve fare chi in quel momento è titolato a fare prediche o il suo cuore a fare prediche però poi si ascoltano i dipende e i media passano il messaggio sbagliato vedi ma anche lì è la questione qual è la responsabilità dei media dire dipende o dire è sempre un po' secondo me non c'è una risposta netta io so che è più bello delle risposte nette o prendersela sempre con i giornalisti a me piace un sacco però ecco anche lì il giornalismo è il servizio di dire le cose con delle opinioni o è anche la responsabilità di quello che potrebbe accadere se dici certe cose in un certo modo perché palesemente alcuni giornali applicano solo la prima questione penso che ne so i vari giornali sono tanti no? giornali soprattutto molto schierati che finiscono ad essere a uso organi di partiti addirittura o comunque molto 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 politicamente orientati ci sono altre persone tipo io io sento una grande responsabilità quando affronto le questioni e quindi cerco sempre anche di passare dei messaggi perché ci credo ovviamente non è perché sono uno che si inventa le cose dei messaggi che possano essere positivi ecco quindi è sempre un po' difficile coniugare queste due cose infatti ogni tanto ho dei problemi ho dei problemi perché che ne so quando dico si però questa cosa non è ok tutti mi dicono ma tu sei quello buono sì però in questa cosa cioè in questa questione la penso il mio discorso è un po' più strutturato e quindi c'è questo dipende dipende ma dire che nuoce al benessere senza passare per nomas che è possibile una passeggiata io mi voglio fare una passeggiata e se ho sintomi a passeggiare non ci vado pd fracchia no allora no io non credo che in questo momento non credo che comunque sia c'è anche questa cosa qua che io non credo nel libero arbitrio delle persone non credo nel senso di responsabilità delle persone e in questo momento io sono a favore del mascherina sempre ed io la detesto la detesto oggi ho fatto 40 ho camminato per 40 minuti perché ero al telefono e quando sono al telefono e parlo sto parlando di lavoro vado in giro come un pazzo perché voglio massimizzare il tempo e quindi stare al telefono seduto mi sembra stupido perché voglio anche perlomeno muovermi cioè posso combinare due cose e quindi lo faccio e l'ho fatto con la mascherina ed è stato molto 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 fastidioso devo dire la verità poi non posso mettere meglio che li da sole perché si appannano cioè è una rottura però se in questo momento la necessità è mandare il messaggio e dire mettetevi la mascherina o vi multiamo e la gente si mette la mascherina infatti io qui attorno ne ho visto molte 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 di più e soprattutto le ho viste in faccia e non qui probabilmente è una cosa che va fatta poi certo è ovvio che se sei in campagna a farti la passeggiata in realtà c'è anche scritto nel decreto che in quel caso puoi anche non metterla però in generale è meglio dire alla gente mettetevi sta mascherina non rompete punto pensa quando pedalerai con la mascherina ma faccio solo ciclette quindi dovrei mettermi la mascherina a casa e pedalare e pedalare sulla ciclette davanti al genere è una cosa un po' triste se metti gli occhiali sulla mascherina non si appannano oddio sono stato tentato di mettermi la mascherina e gli occhiali da sole però stiamo già presentando il ridicolo in questa live quindi let's stop sandro reps compro zucche verdi su animal crossing allora io vi dico questa cosa io sono rientrato in animal crossing e così chiudiamo io sono rientrato in animal crossing perché ovviamente perché c'è c'è halloween no? c'è l'autunno halloween è un momento bello e quindi non riuscendo a viverlo da adulto perché poi non è che qua si festeggi il mio figlio è troppo piccolo per vestirlo non lo so da zucca non lo so ma la vivo son animal crossing figo sono entrato e sono impazzito e ho deciso che tutta la mia isola deve cambiare e addirittura non voglio più una casa ne voglio due perché una sarà la mia casa una sarà la sede di Breaking Italy quindi tra un po' io vi aprirò nuovamente l'isola cioè nel senso adesso è aperta però c'è quella vecchia ci sarà proprio voglio creare la palazzina di Breaking Italy sono un adulto però c'ho sti problemi cioè pensate voi quindi adesso ci sono due personaggi che vengono nella stessa isola che sono sempre io vabbè c'ho problemi c'ho problemi quindi parli così tanto di Animal Crossing che sono molto vicino a installarlo e giocarci sono un influencer sono un influencer coraggio ragazzi quindi quindi sì fate i bravi grazie per la compagnia ci Animal Crossing non lo capisco torna in chat grazie per la compagnia ragazzi buon weekend ci vediamo ci vediamo lunedì con queste puntate che non vengono mai bucate guffiamoci da soli ci vediamo lunedì adesso me ne vado a casa adesso dico la solita frase vado a non so se vado a mangiare la pizza devo dire la verità perché sono ancora dieta ad ascoltare ad ascoltare propaganda mentre gioco ad Animal Crossing e cambio tutto quanto e mi addormento sul divano quello rimane fate i bravi grazie per la compagnia ci vediamo lunedì grazie per la compagnia